I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato 10 persone nel legnalnese, nelle province di Varese e Torino, ritenute responsabili a vario titolo di traffico e detenzione illecita di stupefacenti come cocaina, marijuana ed eroina. Si tratta di 9 cittadini albanesi ed un italiano di età compresa tra i 22 e i 54 anni. Durante il corso dell'indagine, protrattasi per circa 8 mesi, è stato sequestrato anche un libro mastro sul quale era riportata la contabilità di uno dei fornitori di stupefacente, un albanese di 37 anni residente a Cannegrate. L'analisi del documento rinvenuto e i successivi riscontri effettuati dai carabinieri hanno consentito di accertare che la droga movimentata aveva fruttato durante il periodo di svolgimento dell'intera indagine la somma di oltre 2 milioni di euro. Gli arresti di questa mattina sono la conclusione dell'indagine dei carabinieri della compagnia di Legnano su due famiglie attive nell'attività di spaccio di droga nelle zone di Villa Cortese, San Giorgio di Legnano e Legnano. Il giro d'affari dei malviventi era di circa 250 mila euro al mese. I componenti delle due famiglie di nazionalità albanese che gestivano il giro di droga spacciavano in un bar ed effettuavano consegne in auto. Il 37enne si spostava anche in giro per l'Italia, da Roma al Milanese, da Brescia a Como. Un bar di Villa Cortese, i cui proprietari sono estranei ai fatti, ogni giorno era teatro di circa 40 cessioni, mentre altre decine venivano effettuate. Previo appuntamento con il pusher, che arrivato in auto in un punto preciso, incrociava il cliente, anche lui in macchina, ed effettuava lo scambio droga-denaro.